Antonio più Silvano uguale due è un documentario, un melodramma a tinte forte diretto a tre mani da me, Vanni Gandolfo e Luca Onorati. È nato in maniera molto semplice, a Trastevere nel cuore di Roma, aprendo le finestre di casa Vanni si è imbattuto in una parete che riportava delle frasi d'amore che giorno dopo giorno hanno composto un vero e proprio romanzo d'amore e noi abbiamo deciso di raccontare questa storia. La mano che scriveva queste frasi è quella di Silvana Madonna segnata dalla vita che fa di tutto per riconquistare l'amore della sua vita Antonio rinchiuso in una casa di riposo all'interno del quartiere.